Ancora con il vostro G.I.J. ci troviamo a Soverato, stiamo entrando in un negozio che ormai è conosciuto per il suo superfair, con noi Paolo Pelaia, che ormai vive a Soverato, ci vedeva a sera, come mai è qua, spieghiamolo. Dicono che il migliore kebab è della Calabria, si può dire, saporito, è abbondante pure, ma poi i proprietari ci sanno fare con la gente, diciamo la verità, allora lo vedete si chiama Donald Kebab Paninoteca XXL Soverato, secondo te perché XXL? Perché è big, 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 grandi, e come vedete qua ci sono tutte le salse, una domanda velocissima, sentite, cos'è Agnello, spieghiamolo. Noi siamo canna di tacchino e vitello, il pannevista, quindi cosa fa, gira? Gira mano a mano, noi a mano a mano che lo tagliamo, tagliamo la cotta e lasciamo la cruda, la cruda e la facciamo cocere, e a mano a mano. Quanto dura la cottura? Vabbè, a primo impatto un'ora, diciamo. Poi a mano a mano che si lavora, e poi che avete anche patatine fritte, e quindi fate panino, piattino, piatto sfuso, come orari per chi ci guarda per la prima volta? Adesso apriamo il cena verso le sette, chiudiamo mezzanotte, l'uno, dipende, ancora diciamo c'è gente assomera, signor Pelaia, conosciuto per la frutta, buonissima a stare a San Bruno, ma voi la frutta gliela portate qua ogni tanto? Sì, ogni tanto mi fanno delle ordinazioni, sì. È la signora che ha un sorriso alla mano, giovanile, quindi vedi qua, vedi il sole, anche se è buio fuori. Io pensavo che Angelo, che lo salutiamo, lo scorpione di Serra San Bruno, facesse il mio kebab, mi sono sbagliato, gli auguriamo buona fortuna, ma qua sono il top, mai mangiato un kebab così buono questa sera? Lo dice anche il loro marchio XXL, quindi già. La bondazza, va bene, grazie ancora, come vedete i tavoli fuori e dentro, tutto carino, qua c'è scritto sarei sempre con noi, king of kebab, quindi vi aspettiamo in questo posto meraviglioso dove si mangia da Dio. Un saluto a tutti da GGJ. Un saluto a tutti.